Ma c'è un altro aspetto più importante che è stato per così dire epurato e amputato in questo centenario celebrativo, cioè che il futurismo era una rivoluzione antropologica integrale, non soltanto un movimento di rinnovamento artistico. Questo lo distingueva da tutte le altre avanguardie che lo hanno preceduto e da quelle che lo hanno poi seguito anche perché il dadaismo e il surrealismo hanno rispetto al futurismo un vantaggio enorme, che il futurismo predica una distruzione della società liberale, borghese e razionale senza immaginare cosa sarebbe stata effettivamente. I dadaisti e i surrealisti hanno visto cosa è stata effettivamente ed è l'esperienza della grande guerra. E' interessante che il bellicismo futurista è forse il carattere meno originale del futurismo perché tutta la cultura europea, liberale, nazionale, borghese, parlamentare di quegli anni era profondamente convinta che la guerra fosse una grande rigeneratrice dei popoli assopiti, che la guerra fosse una necessità etica. Ora per capire perché nasce un partito politico futurista bisogna tenere conto proprio del fatto che il futurismo quando esalta la guerra come i grandi igiene del mondo lo fa forse con un linguaggio più sguaiato e più esplosivo, ma in realtà tutta la cultura occidentale, anche tutta la cultura dell'Occidente che va dalla Russia degli zar fino agli Stati Uniti d'America ha un profondo culto per il valore etico della guerra come una necessità per i popoli che se vivono lunghi periodi di benessere decadono. La violenza per i futuristi non è una metafora, è un comportamento reale. Se noi oggi avessimo qualche scintilla di futurismo ancora dovremmo iniziare questo incontro con una scazzottatura. Io dovrei provocarvi, insultarvi per far sì che voi insultiate me. La violenza fa parte della modernità, l'uomo moderno deve essere educato a vivere violentemente. La epurazione di un futurismo che noi oggi celebriamo quasi fosse il nostro papà spirituale, cioè che ci ha dato la grande arte. Noi siamo oggi sostanzialmente a rivendicare un futurismo che sicuramente oggi rappresenta nel campo internazionale un contributo italiano che non ha riscontro in altri nostri movimenti culturali, ma il futurismo è stato un movimento integrale che non ha mai voluto essere soltanto arte, ha voluto essere concezione e pratica totale della vita. Ecco perché fin dall'inizio nel programma del manifesto, ma poi subito dal 1909, dalle prime elezioni del 1909, il futurismo comincia a diffondere manifesti politici nei quali dichiara chiaramente quali sono i suoi obiettivi. Non sono utopie molto astratte, rientrano in questa cultura bellicista e nazionalista, ma violenta, dell'Europa di quegli anni.